Cari ragazzi, siamo arrivati all'ultima settimana di scuola, ci siamo arrivati un po' in maniera strana quest'anno e per voi delle quinte è l'ultima settimana dell'ultimo anno dell'esperienza che avete vissuto al liceo. Per questo vorrei lasciarvi un ricordo, un messaggio delle cose che abbiamo vissuto insieme durante questi cinque anni e che purtroppo non abbiamo potuto portare a compimento in maniera conclusa, in maniera piena. È un po' strano per me fare questa cosa perché come avete visto durante tutto il periodo della didattica a distanza non ci siamo incontrati in video, un po' perché ho seguito l'indicazione della preside di limitare l'utilizzo delle video lezioni, siete operati da altre materie giustamente più diciamo corpose rispetto a quella che vi insegno io e un po' consentitemelo di dire a voi che ritengo lo strumento della didattica a distanza uno strumento veramente pessimo, pessimo perché non è didattica tantomeno educazione, è solo distanza e quindi è stata un po' anche una mia forma di protesta per non diciamo sottostare completamente a questo obbligo che il ministero ci ha imposto e ho caricato comunque i materiali sulla pagina della nostra classe, l'avete visto, ma vorrei anche darvi un segnale chiaro che questa non è la scuola, la scuola è quella che avete vissuto negli anni precedenti, la scuola è quella dove ci siamo incontrati, dove abbiamo potuto condividere idee, speranze, ansie, dubbi, quella è la scuola, non certamente questa e questo fatemelo dire con forza. Detto ciò vorrei però anche lasciarvi con un messaggio positivo, qualcosa che vorrei affidarvi come riflessione, come spunto di riflessione per la fase della vita in cui state per entrare. Me lo sono scritto, quindi un po' lo leggo perché insomma è una cosa importante, è l'ultima volta che mi sentirete chiacchierare, perlomeno in ambito scolastico, quindi abbiate pietà, non prendetemi troppo in giro, se lo volete fare fatelo, me lo merito, ma questo è quello che mi sento di dire a voi, quindi iniziamo. Allora, cari ragazzi, è toccato a voi, a noi in generale, vivere questo tempo folle in un momento per la vostra vita fondamentale, il passaggio dalla scuola superiore al mondo fuori dalla scuola, che sia il lavoro o l'università. E con un po' di rimpianto, molto rimpianto, che vi saluto oggi dopo cinque anni trascorsi insieme, in quell'ora di religione che è rappresentato per noi un po' un'ora di libertà, in cui poter spaziare in tanti ambiti, in cui poter essere noi stessi, in un rapporto sincero. E mi dispiace dunque salutarvi senza poter sorridere insieme un'ultima volta, guardarci negli occhi, accogliere i vostri dubbi, le vostre ansie, le vostre preoccupazioni. Vorrei comunque provare a dirvi qualcosa. La prima cosa è quella di provare a guardare l'esperienza della pandemia che abbiamo vissuto con tutto quello che ne consegue, quindi nel suo complesso, da una prospettiva alta, cioè mettetevi fuori dall'evento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo e provate a guardarlo nel suo insieme. Pensatela come l'esperienza della vostra generazione. La vostra generazione è quella che è chiamata a ripensare la società del futuro, quello che succederà dopo la pandemia. La vostra generazione è esattamente come la generazione dei vostri nonni. I vostri nonni hanno dovuto ripensare e costruire il mondo che sarebbe emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale, la società in cui avrebbero voluto far vivere loro stessi, i loro figli, i loro nipoti. A voi è toccata questa esperienza, non quella della guerra, ma quella di un evento altrettanto tragico e catastrofico, diverso, dissimile, ma in tante sfumature anche simile. E quindi a voi, alla vostra generazione, tocca il grandissimo compito di pensare a quello che sarà il vostro futuro, il futuro dei vostri figli, il futuro dei vostri nipoti. A voi tocca costruire le basi, quei valori fondamentali su cui volete far edificare la società di domani. Quindi per voi il tempo della pandemia è un tempo di crisi, ma nel senso pieno della parola. crisi viene dal greco e significa giudizio, cioè sta a voi giudicare quelle che sono le cose da tenere e le cose da lasciare, quelle che sono le cose fondamentali su cui voler costruire il futuro. Quali sono questi valori? Provate a pensarci, sta a voi. L'altra cosa che vi voglio dire è che siamo stati per tre mesi chiusi nelle nostre case e questa clausura forzata ci ha fatto avvertire che tutte le cose che noi possediamo, internet, la tv, tutte le comodità di questo mondo, non sopprimono, non sopperiscono, non possono bastare alla nostra vita e alla nostra sede di libertà. Il bisogno di libertà risiede nel profondo della nostra anima, nel cuore di ciascuno. Gli impedimenti, l'isolamento, le restrizioni hanno svegliato paradossalmente in noi il desiderio di essere liberi. Ma la libertà non è una libertà egoistica, capricciosa, fatta di movida e spritz. C'è anche quello, ma non è quello. È una libertà profonda, è una libertà vitale, che è fatta essenzialmente per essere donata. Essere liberi significa prima di tutto poter disporre della nostra vita per farne un dono per gli altri. Di questa libertà noi abbiamo avuto la netta sensazione che non può essere sostituita da nient'altro. E per questa libertà noi possiamo veramente metterci in gioco, con tutto noi stessi. Ma, come vi ho detto, la libertà non è l'egoismo, non è il faccio quello che voglio. Di questo noi non abbiamo rimpianto, se non limitatamente, come corollario, a una libertà ben più profonda, di poter appunto decidere per noi stessi, per la nostra vita, cosa fare del dono della nostra vita. Questa libertà che noi abbiamo sentito come fondamentale, che ci è mancata drasticamente in questo periodo, l'abbiamo anche considerata essere niente se non in relazione agli altri. Ci è mancato, insieme alle libertà fondamentali, la relazionalità con l'altro. L'imposizione del distanziamento sociale, che ancora permane, ci ha fatto percepire come tremendamente soli. Siamo soli. La solitudine, però, non è fatta per l'uomo, o meglio, l'uomo non è fatto per vivere solo. L'uomo è fatto per vivere insieme agli altri. Questo altro, che è diverso da me, che è lontano da me, con il quale spesso e volentieri non vado d'accordo, lo abbiamo riscoperto come essenziale alla nostra vita. Noi non possiamo vivere se non nella relazione con l'altro, nella relazione libera con l'altro. Vivere insieme è il respiro della libertà. Ecco perché ci sono mancate le due cose fondamentali dell'esistenza umana. Vivere insieme è il respiro della libertà. Recuperate quindi gli spazi, accorciate le distanze, anche fisiche, quando appena potremo, ma anche spirituali, che ci impediscono di vivere insieme agli altri in un mondo in cui ci consideriamo fratelli e amici. L'ultima cosa che vi voglio dire è quella di usare la vostra intelligenza. Usatela insieme alla vostra coscienza, perché nella coscienza risuona la voce di Dio. Imparate a discernere il vero dal falso. Nel grande mare delle informazioni e dei messaggi che ci arrivano da tutte le parti e che vi vengono propinati dai media, cercate la verità, con tutti voi stessi, con tutta la vostra intelligenza e in ogni luogo, in ogni ambito in cui vi troverete. Vi lascio, infine, con una citazione di Thomas Eliot, che amo molto e che vi suggerisco di approfondire come autore. Ha scritto cose bellissime. Una di queste è la citazione che voglio lasciarvi e vi voglio leggere a conclusione di questo breve messaggio. Elliot diceva Non smettete di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!